L'obiettivo è aperto. Adesso vale sullo schermo. Buona. Grazie. Ho messo il schermo? No, ho scritto il metto qua davanti, che è appena appena piccoli display. Sì, sì, sì. Buona. Grazie. Non ci vuoi togli il casco, vero. Adesso di là, allora? Vai Diego, vai. Vai, vai. Dai, dai ostia, che ti prendi un po, cor. Dai. C'è? Dai ostia, dai, che ti perdiamo. Corca troia. Dai. Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.